Assolutamente. Come ve la spiegate? Ce la spieghiamo col fatto che chi predica la democrazia non la pratica e chi parla di intolleranza è il primo ad essere intollerante e ad avere pregiudizi nei nostri confronti. Cosa farete per i prossimi giorni dietro questi cancelli? Faremo esattamente quello che abbiamo dichiarato, quello che c'è scritto nel programma, che tutti possano leggere sul nostro sito internet, delle conferenze, degli incontri, schiameremo due chiacchiere con gli altri movimenti nazionalisti europei e la sera ci sarà qualche piacevole eccesso. Gli ospiti sono già arrivati tutti? No, stanno arrivando ed è per questo che stiamo ritardando un po' l'apertura perché ci sono gli ospiti stranieri che sono un po' in ritardo. Un imponente apparato di sicurezza è stato messo in piedi, forse il doppio delle persone tra carabinieri e polizia rispetto ai partecipanti? Non so se sia il doppio, di sicuro non è un apparato che serve a proteggere i cittadini dai nostri amici, dai nostri fratelli, ma sicuramente potrà servire eventualmente per chi appunto predicando la democrazia ma non praticandola magari non è escluso che crei qualche incidente come sempre. Quali sono i temi di cui tratterete? I temi di cui tratteremo sono temi di stretta attualità, sono matrimoni gay, matrimoni osessuali che noi come milioni di altri cittadini in tutta Europa, se non in tutto il mondo, avversiamo. Si parlerà di guerra in Siria, una guerra scatenata in primis dagli Stati Uniti, notti portatori di democrazia con le bombe. Si parlerà di invasione, di immigrazione selvaggia, quindi non di immigrati che non sono il nostro nemico assolutamente, contro i quali non abbiamo nulla, ma contro l'immigrazione che è appunto diventata selvaggia. Questo fatto che avete rimandato alle due l'inaugurazione dipende da cosa? Dal sindaco? No, il sindaco era prontissimo a venire e siccome stiamo ricevendo responsabili di movimenti nazionalisti da tutta Europa, c'è qualcuno che può aiutare, per esempio dai paesi dell'estero. Il sindaco ha confermato che viene a farvi un saluto? Assolutamente, sì. Anzi, ringraziamo pubblicamente il sindaco perché è uno dei pochi che non parla solo di democrazia, ma poi la pratica. Grazie. Grazie a voi. Grazie mille.